ricarica c'è sotto no connessione ah no non è connessione rossa al fabrizio che si è andato oh bro questa se ci riesco voglio il nobel ma tu shhh nooo nooo bromo te ne faccia uno con la desert che proprio è oh eh eliminato alessio non vinco sempre ah si è ma perderà bromo ti vuole fare un'azione bellissima I'm a big fucking pro no no oh bellissimo questa è bella questa è bella non posso morirci non posso morirci dai stazione verrà bellissima michele non morirà perché parlo in terza persona oh mio dio come ho vinto quanto hai di vita this is a fucking bitch ciao